Ho iniziato. Allora io sto nella parte bruciata che tu eri andato via nella partita quando ti ho detto che era caduto quello che correva diciamo. Ah è soldato no? Mamma mia. Ah vabbè è sparito. E io sto giocando con il joystick perché mi ricordavo di Rafti invece posso giocare con il... Cioè stavo giocando con il mouse e non mi vado a ricordare che c'è il joystick. Allora siccome sono in modalità big picture adesso... No. Posso mettere il... Chi è? Posso mettere quella specie di coso. Ok io sto... Sto vendendo tutto quel che c'ho. I soldi li metto fanno a parte. Chi è? Ah vabbè c'è uno strancio sto vedi? Bravo. Che in vano va a distruggere la base del traitor ma non sa che non fa niente. Maledetto sto fatto di... Big picture devi entrare con una specie di modalità. Cioè adesso no. Vabbè va. E vai un punto. Sì vabbè però devono togliere il suo fatto che gli zombie saltano. Beh vabbè accontentiamoci. Che cazzo di zombie che saltano. Della carbonella 30 di osso. Qui ci sarai già intratto tu forse. Non è la prima a casa a testa. Sì sì. Ma perché paranoia. Cioè sto facendo dratti e ti pinghe di giù. Non è una cosa che odio. Mamma mia io c'ho la vita bassa quindi mo mi devo curare. Ecco ti vedo. C'erano le antitoloforifici? No vabbè mi sto curando con le bende. Ciao. Ciao bello. Allora. Qualche altro livello c'ho io. Sì un livello che non mi serve a un cazzo. No sciacallo sfortunato. Di trovare un bottino migliore. Noi abbiamo trovato ancora una chiave inglese. Eh la chiave inglese ce l'ha quella ho visto. Vabbè ma no ci serve solo a me. Aggiusta tutto. Costruisci banche da lavoro più velocemente. Eh dai l'ho sbloccato. Allora se trovi la pelle. I una donna. Se trovi la pelle. Poi portala a me perché posso fare la cucina. Eh mi dispiace ma vabbè duco il tuo tuo valpo. Vabbè la prossima pelle che trovi. Che dieci me ne sa. Oh perché no. Ti voglio fare tutti i soldi. Eh vabbè però. Chi è? Ah la vedi mamma mia. Il mostro della camera da letto. Chi è? Chi è sa la madre? No quella con i capelli arancioni che adesso è morta pure in ginocchiata brutta. Chi è? Ma quante piume. Allora. Ah vediamo se li vendo pure io qualche cosa questa cessa. Magari usciva da qui. Il nome è Jenny. Ma tu puoi chiamarmi Dr. Jenny. Ma no mi non per il... Allora. Questo te lo puoi prendere. Abbiamo 14. Il pane rafferro. Ammuffito non lo vuoi eh. Questo trovo che te lo puoi prendere perché tanto noi li troveremo assai. Ma cos'è accorchicendo lì con i soldi qua? 51.000. Vediamo se giusto per pietà è sceso il prezzo. Di mortaggio sembra quello. Vabbè devi sbloccare. Chiave inglese di livello 3. 2000. 2000 monete. No la c'ha sta. Vabbè tanto quello. Le troviamo noi quanto vogliamo. Vediamo se c'è qualche missione vicina la faccio. E' provviste sevolte di tua sorella. Vabbè farlo. Fai buono. Prendi la collega. Oh io ti chissi. Ma... Io ti chissi. Ma... Io ti chissi. Allora. Dei ma la stagna a questo proprio non mi dure niente. Fammi fare scocchi che non sa. E' una merdina. Una merdina che strisce. Però che la vedi da lontano. Da 200 metri. Viè. Viè. I libri addocchio li leggo e te li lascio vivendo. Tu i libri mettili nella cassetta che sta fuori dalla nostra base. Che poi se vado io e li ho letti... E' un'altra merdina. Cioè già sei di... Di come si chiama? Di pelle. Pelle. Eh non mi dire. Un'altra merdina ancora. Ste montagne maledette. Ma tu vedi. Fino a spingarla buona. La possiamo vende. Ci penso di dare due monete per quella. Eh. Vado a fare. Una cunecchia. Vediamo qui sopra che cosa... Eh un'altra merdina. Oh ma che è. Le trese delle merdine. Sto uccidendo con le vostre stesse ossa. Beh. Eh eh eh. Vado a sembravo un cane. Fasco. Vado a cacciò di stoppera. Tre stack. E questo chi è? C'è la palla. La palla di livello tre. Mamma mia. Mangialo. Mangialo. Mangia questo. Così non rompi le palle. Un bel canzone da modi. Che è? Buona ascia. No, con la sanda pacienz. Mamma mia. Ci metto a scavare. Uuu. Maledetto. Non do un altro munizio. Vado a distru. Chissà che ce li ho i... Ah no. No, io c'ho quelle del fucile. Pensavo di averle trovate. Nooooo. Che cosa? Senti, tu stai nella città bruciata. Sì. Ti ricordi... Ma non c'è manco spazio. Ti ricordi dove sono andato io? Beh? Che mi hai fatto chiudere la partita l'altra volta. Vai lì sopra. E lì sopra forse il baule io non l'ho preso. Cioè non me l'ha calcolato che l'ho preso in questa partita adesso. Cioè l'ho preso nell'altra, forse tu hai salvato. Non ti so dire male. Però provo, perché io mi ricordavo di avere tanti proiettili della pistola. Prova a vedere se... Perché erano proprio assai, tipo... O 30 o 60. Ahia, che cacchio. Ancora amico sta madonna più alto. C'è una zona che cammina. Quanti cazzo di colpi ho dato a sto rimbambito. Che cacchio mi tolgo porca va... Non c'ho più spazio. Dove cavolo sta sto tesoro a rimortarci di quello che l'ha seppellito? Quello che l'ha seppellito in Cina. Dai recupera, recupera. C'è incredibile. C'ho tutto rotto. Asso e braccio. Perché sei caduto? Ah no, ti ha rotto quello. Beh. Dovevo rompere le scatze. Ma per arrivare là ci metterò un'eternità. Madonna. Poteva volare. Eccolo. Che cosa? Il baule. Fa che ti dai ciò. No, il cibo, il cibo. Il cibo. Ehi, sei il ricetto del caffè. Ma che cazzo. Vabbè, dai, meglio di niente. Cazzo, 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 scappa. Ma arrivano questi. No, non vedo l'opera. Ma po' che uscirà la moto inizialmente. Ma scuscirà qualcuno. Ma evidentemente, forse ci sarà... Ad un aiuto. Ci sarà la moto, la bici. Dobbiamo solo andare negli altri venditori. Sì, io capace che se torno indietro al primo... Al primo... L'anima ascia vostra, oh. Al primo venditore. Sì, vabbè, lascia stare. Mò ci prendiamo solo la macchina. Sì, stiamo... Ma vuoi metto che è più comoda la macchina? No, io preferisco la macchina non più caldo. Forse che non voglio fare 10 viaggi per finire nella zona. Io con la macchina riesco a fare tutta la zona. Sì, stai. Caricare. Puntare. Vieni, vieni. Tiè. Brutto pezzo. E ora ritorno indietro. Mi ha dato... Eh, vabbè, le scatolette del cane, ovviamente. Mi ha dato due edisir dell'apprendimento. E due confezioni. Vabbè, quattro di acqua, che non ho capito perché mi dai l'acqua. Vabbè. Andiamo per questo tronco. C'ha il miele. No. Qua vicino al trader, sulla destra, se tu vedi la zona a bruciarti la razione, se lo vuoi prendere, non lo ti dà il mio. Ah, vabbè. Ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, sei l'unico che cammini come un essere normale, diciamo. Dove che sto? Ah, ecco. Ma guarda, così fai i soldi qua, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Viste che di vendere tu, ti do i soldi, ti do le cusco, se le vendi. E dammele. Che alto? No, l'hai visto, l'hai trovata la pelle. A posto? Aspè? A posto. Vediamo quanti soldi mi dà questo per questa missione che ho riuscito. 560. Ma, cos'è io a 512? Vitamina, due filo per cazzo, non ne devo fare. Ah, due scelte, c'ho. No. E di nuovo fam, c'è, è impossibile, ho mangiato 3 scatole di cibo. Allora. Què, tieni, què, tieni, què, tieni, què, tieni, què, tieni. Questo lo devo leggere, questo. 36 per una spingarda di livello 2. Così abbiamo già 1224, più le cose che devi vendere, vediamo, c'è, più 1.258, che c'ho io. Ma, vediamo, che c'è. Ma, dopo. Che schifo. No. Aspè, perché qua c'è qualche altra cosa che sta avendo. C'è qualcuno? No, io che sto ritornando dal trader. Che devo vendere quelle cose che poche cose che abbiamo.